Gioveni dallo Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Ucraini, tanti anche del territorio, insomma, noi siamo siti a Porta Capuana, Quarta Municipalità, quindi tanti ragazzi anche napoletani, doc, diciamo così. Finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie e realizzato dal Comune di Napoli in partenariato con soggetti del terzo settore, il progetto SCIC Napoli, Sistema Cittadino per l'Integrazione di Comunità, ha raggiunto importanti obiettivi per l'inclusione sociale, lavorativa, economica, culturale ed abitativa dei cittadini di paesi extraeuropei. I risultati sono stati esposti questa mattina in un convegno al Real Albergo dei Poveri. Io mi sono occupata in particolar modo dei laboratori che hanno coinvolto giovani di nuova generazione, seconde generazioni e minori giunti con ricongiungimento familiare, che hanno avuto come metodologia utilizzata l'arte educazione per poterli far socializzare e permettere loro di scoprire proprie potenzialità, talenti e competenze. Grazie al progetto SCIC abbiamo sicuramente potuto incontrare e supportare persone con background migratorio, ma quello che per noi è particolarmente rilevante sono stati i due anni e più di sperimentazione con i CIPIA, con i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. La scuola pubblica italiana è gratuita per adulti. Abbiamo potuto, attraverso una cabina di regia operativa composta da studenti e studentesse con background migratorio, docenti, staff CIPIA, mediatori linguistico-culturali, sperimentare delle nuove pratiche di accoglienza e orientamento affinché i percorsi educativi per adulti stranieri non siano solamente un'occasione di formazione, ma siano anche un'occasione di cambiamento, di miglioramento, di emancipazione, in cui poter migliorare il proprio livello personale, ma anche quello professionale e sociale. Alle diverse testimonianze di operatori ed utenti dei servizi si sono aggiunte le analisi e i dati elaborati nel corso degli anni dagli specialisti. Maggiore consapevolezza sia delle proprie potenzialità, delle proprie capacità, maggiormente si ricercano delle opportunità per la propria vita.